per adesso mi ha ripetito Sì, è vero. Hai visto? In Piazza Navona Grazie 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 il mondo è un po' e il mondo è un po' e un po' e un po' e un po' e i 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 stiamo facendo un giro per roma e posso tranquillamente dire che roma è una delle città più belle del mondo Viva l'Italia Viva l'Italia Ahora estamos aquí, la Fontana di Trevi Tarararara Vamos a leer ahí Clemens Si Ponte Max Aquam Virginem No se leer Ponte Max Parada Para